Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Alessia Marcuzzi ha annunciato una grande novità, che ha lasciato a bocca aperta il pubblico e tutti i followers che seguono le sue vicende personali e professionali online. La famosa conduttrice è pronta a un grande passo. Scopriamo che cosa ha comunicato ai fan. Alessia Marcuzzi ha dato una notizia che ha fatto felici tutti i fan più affezionati. Ecco di che cosa si tratta, Alessia Marcuzzi, la grande novità della conduttrice. Alessia Marcuzzi non ha bisogno di presentazioni. Lei è stata uno dei personaggi femminili televisivi più apprezzati degli ultimi 25 anni. Il suo carisma, la sua simpatia dilagante, il suo fascino magnetico, e al tempo stesso la capacità di far sentire il pubblico delle persone comuni vicine a quello magico della tv, sono da sempre aspetti amatissimi da parte del pubblico. Per questo motivo è diventata il volto di programmi televisivi, tra cui il format satirico Le Iene, Mai Dire Goal, Scherzi a parte, e tanti altri. Ha condotto i reality show più seguiti del palinsesto televisivo Mediaset, tra i quali in particolare L'Isola dei Famosi, Il Grande Fratello, e anche Temptation Island. Dopo la sua lunga carriera, costellata di successi e traguardi importanti, Alessia però un anno fa ha deciso di dire addio alla televisione. Di certo la sua scelta è stata motivata dalla volontà di ritagliarsi più tempo da dedicare ai propri progetti personali, dopo una vita passata sotto i riflettori. Qualcosa però a quanto pare ora potrebbe essere cambiato. Scopriamo che cosa ha annunciato la celebre presentatrice. L'annuncio che ha fatto impazzire i fan, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha rivelato alla redazione del giornale di aver pensato e scritto il format di un programma tv del quale presto sarà protagonista. L'amata Showgirl inoltre, ha svelato di essere passata alla Rai, e in particolare ha confessato che tra un po' di tempo la vedremo su Rai 2, in prima serata. Il format si chiamerà Boomerissima, avrà l'obiettivo di far confrontare personaggi di età ed epoche diverse, soprattutto dagli anni 70, ai 2000, in un percorso di dialogo lungo i primi decenni del nuovo millennio. Stando a quanto ha raccontato, si tratterà di un varietà che promette di mettere assieme tendenze, musica, trend, film ed episodi di cronaca. Il grande ritorno della Showgirl in televisione è attesissimo. Ora il pubblico non aspetta altro che ricevere aggiornamenti sul nuovo programma Rai, e spera di rivederla sul piccolo schermo il prima possibile. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.